Travaglio, oggi Zingaretti ha detto ai 5 Stelle e a Renzi che è ridicolo voler governare insieme l'Italia per quattro anni ma non allearsi per le amministrative. Ricordiamo che a settembre si andrà a votare in sette regioni italiane e ognuno sta andando per conto suo. Ha ragione Zingaretti e anche questo approccio non è un rischio, non è pericoloso per il governo? Ha ragione nel senso che quel pragmatismo che ha indotto ieri il centrodestra diviso su tutto a ritrovarsi su candidati comuni dovrebbe far riflettere il centrosinistra e i 5 Stelle contro il rischio Tafazzi. Io non credo che nelle sette regioni in cui si voterà sia possibile dappertutto ipotizzare un accordo perché sono due forze molto diverse. È evidente che a Napoli il candidato naturale soprattutto dopo la gestione del Covid è De Luca per il centrosinistra. Probabilmente ha già vinto le elezioni così come Zaia in Veneto perché sono apparsi come dei presidenti di regione determinati che non hanno commesso errori se non errori lessicali. Che c'entrano i 5 Stelle con De Luca? È assolutamente innaturale, impossibile l'accordo quindi in quella regione lì è inutile discutere. Non c'è la possibilità di un'intesa. Se i 5 Stelle appoggiassero De Luca si sputtanerebbero completamente e giustamente li prenderebbero tutti in giro. In altre regioni, soprattutto là dove non ci sono governatori uscenti ma c'è da costruire delle nuove candidature penso per esempio alla Liguria o alle Marche dove non si ricandida l'attuale governatore e direi per fortuna, visto la bizzarra gestione del Covid, un governatore del centrosinistra che chiama Bertolaso per fare un ospedale che praticamente non ha mai visto un malato, fa abbastanza ridere. Quindi lì possono costruire qualcosa insieme. E poi dovrebbero parlare un po' della Puglia. Se c'è un esponente del PD che somiglia ai grillini è proprio Michele Emiliano che prima di tutti gli altri, quando ancora i 5 Stelle erano scomunicati, già dialogava con loro sui temi, sul TAP, sull'Axilella, sull'Ilva di Taranto. Quindi lì non si capisce per quale motivo non potrebbero trovare un'intesa sulle cose da fare, visto che sono molto vicini. Tanto più che in Puglia verrà a mancare l'appoggio, se così possiamo chiamarlo, perché poi non sappiamo nemmeno quanto conti, dell'innominabile di Calenda e di più Europa che hanno deciso di candidare niente po' di meno che Ivan Scalfarotto. È una candidatura di puro disturbo ovviamente, perché Scalfarotto sa benissimo di non poter diventare Presidente della Puglia nemmeno se succede un cataclisma. Quindi è semplicemente un dispetto. Quindi io penso che regione per regione ci dovrebbero provare. Non provarci sarebbe assurdo. L'idea di farlo dappertutto è altrettanto assurda. È impossibile. Intanto comunque la cosa certa è che passeremo l'estate in campagna elettorale. Chi ha già cominciato è Salvini. Alessandro